Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo della Saleva Lightrek da due persone, una tenda autoportante di cui adesso vediamo insieme pregi e difetti. Iniziamo come solito dalle caratteristiche. Questa Saleva Lightrek è una tenda, come diciamo, per due persone, autoportante e doppio telo. Esiste anche la versione pro di questa tenda, che è più leggera ma costa anche di più e naturalmente esiste anche la versione da tre persone. Come vi dicevo, questa versione normale da due persone pesa 2,2 kg e per quanto riguarda i materiali troviamo due tipi di nylon. Uno, per quanto riguarda il catino, è un nylon ripstop per la parte superiore. Questi due nylon hanno rispettivamente una colonna d'acqua di 5.000 mm per quanto riguarda il catino e 3.000 mm per quanto riguarda la parte superiore. Detto ciò, iniziamo come consueto il nostro giro attorno alla tenda. Prima di iniziare il giro vi ricordo che per quanto riguarda montaggio, smontaggio e test impermeabilità, ho già fatto il video, ve lo lascio qua in alto a destra, potete andare a vederlo. Iniziando il giro attorno alla tenda, cosa troviamo? Beh, sulla parte anteriore troviamo innanzitutto i picchetti per poterla picchettare. Come voi potete vedere non c'è niente per poterla tirare, è semplicemente un cordino da andare a picchettare. Io preferisco personalmente quelli che hanno lo strap da poter andare a regolare, perché così si tira molto meglio la tenda. Però, vabbè, ci può ancora stare. Continuando, beh, come potete vedere qui sulla parte laterale abbiamo tutti gli ancoraggi per mettere i vari tiranti. I tiranti sono molto semplici, si possono mettere e togliere, quindi molto classici. Anche qua due tiranti per parte, con il suo picchetto anche nella parte posteriore, così da poterla picchettare. Nella parte superiore invece abbiamo una finestra da poter aprire per far passare l'aria, in cui all'interno c'è anche una zanzariera, che poi vi farò vedere se si può aprire, perché si può aprire direttamente la finestra anche dall'interno. E poi i due lati sono molto simmetrici, quindi anche di qua abbiamo i picchetti e abbiamo i tiranti. Picchetto che non vi ho fatto vedere dall'altra parte, questo qua mediano, dove arriva il palo della veranda, che ci promette di poter fissare ulteriormente la tenda e aprirla un pochino per avere maggior spazio. Detto ciò, torniamo sulla parte anteriore, come potete vedere la struttura è a X, quindi questo ci garantisce comunque un buon sostegno della tenda contro il vento e abbiamo un ulteriore palo per quanto riguarda la veranda. Ma proprio sulla veranda adesso iniziamo e ne vediamo i vari pregi e difetti, che è forse la cosa che mi ha convinto meno. Parlando di veranda, allora mi piace molto il fatto che abbiamo diversi cordini, quindi noi volendo possiamo aprire la veranda anche per metà. Esempio così. Magari un po' piove, vogliamo aprirla solo un pochino per guardar fuori. Avendo diversi cursori possiamo benissimo farlo. Vado ad aprirvela, come potete vedere la porta è veramente generosa e grossa. Un aspetto che voglio farvi vedere, tenete conto che è più o meno grossa così. Guardate quanto spazio c'è all'interno. Diciamo che c'è una spanna. Secondo me il punto negativo di questa tenda è proprio la veranda, che è molto piccola. Molto piccola e all'interno se dobbiamo mettere due zaini, magari con tutto il materiale perché una notte piove e vogliamo tenerlo all'interno, è difficile farci stare tutto se vogliamo tenerlo solo nella veranda, altrimenti dovremmo tenerlo anche nella camera interna. Se l'Aleva avesse fatto un palo della veranda, magari un pochino più grosso, che usciva un pochino di più, è vero la tenda pesava un pelino di più, però avremmo avuto una veranda più grossa. Anche perché se dovesse piovere qui non riuscite a cucinarci, sarete obbligati a cucinare direttamente all'interno della tenda. E questo per quanto riguarda la veranda. Vado ad aprirla totalmente, così poi entriamo. Qui c'è una piccola taschina dove potete andare a riporre la parte di telo che va a costituire la porta. All'interno cosa troviamo? Prima di far vedere la camera, vi faccio vedere che qui sono presenti dei tensori. In questo caso con questi tensori andandoli a tirare, possiamo benissimo andare a tirare tutta la parte del telo interno. Inoltre è presente anche una clip che staccandola, vi faccio vedere, ci permette di poter tirare via tutta la parte interna. Infatti poi ci sono le clip anche su tutti i restanti tensori. Da vado a riattaccare, così vi faccio vedere anche la bella parte di spazio che c'è tra i due teli. Come vedete di spazio ce n'è, c'è quasi una spanna, quindi c'è abbastanza spazio. Qui volendoci si può infilare ulteriore materiale, ad esempio gli zaini li avevo infilati qua lateralmente. Questo è veramente buono perché poi vi spiego, a livello di condensa, questa tenda all'interno non ha condensa. Perché comunque la condensa arriva sul telo esterno, abbiamo un telo interno che ci protegge, quindi non avremo problemi di condensa. Continuiamo, apriamo la porta. Come potete vedere la porta ha tutta la parte di tessuto nella parte inferiore e solo una piccola parte di zanzariera. Quindi andiamo ad aprirla. Qui è presente con una piccola tasca dove andare a riporre la nostra porta, così non ci disturba. E entriamo all'interno della tenda. Come potete vedere la tenda è abbastanza bassa. Io ci picchio con la testa, quindi veramente gli spazi qua dentro sono molto ristricati. In altezza è alta solamente un metro. In larghezza già si ragiona un pochino di più, nel senso che due materassini comunque ci stanno. Ci si sta anche abbastanza comodi, ma ci stanno solo due materassini. Siamo a 120 centimetri di larghezza. Se vado a sdraiarmi, mettendo la testa in cima qua, vi faccio vedere che in fondo c'è ancora un pochino di spazio ai miei piedi. C'è qualche centimetro. Questo vuol dire che comunque una persona ci sta tranquillamente. Io sono un metro e novanta, una persona anche di due metri ci può stare. Però è contro di questa camera. Allora contro che è veramente molto piccola. È molto piccola e non dico claustrofobica, ma se soffrite di claustrofobia potrebbe darvi qualche problema. Non abbiamo nessun tipo di tasca. Cioè non ci sono tasche sul laterale dove andare a riporre qualche oggetto, qualche telefono. Non c'è assolutamente niente. Però invece mi sono piaciuti veramente tanto i materiali. Per quanto riguarda il catino, io vi assicuro ci ho strusciato su rocce, l'ho messo in punti veramente cattivi e non hanno avuto nessun tipo di problema. Quindi il catino a livello di materiale è promosso. Promossa anche tutta la parte di telo della tenda interno perché ci ripara dalla condensa, ci ripara dal vento, soprattutto perché questa tenda non fa entrare neanche un briciolo di vento. E poi promossa anche tutta la parte di cuciture. Cuciture, come avete visto dal video dell'impermeabilità, io ho una cucitura che è un pochino saltata, ma l'ho sistemata molto semplicemente. E a livello di cuciture queste sono completamente termosaldate, non hanno alcun problema e davvero qualità saliva che si vede. Si vede tanto ed è sicuramente un'ottima tenda. Per quanto riguarda invece tutta la parte di areazione della tenda, qua sopra è presente una piccola apertura con la zanzariera, ma solo questa. Qui dietro invece abbiamo una piccola cerniera da poter andare a aprire, che va a collegarsi con la cerniera di fuori. E in questo modo possiamo aprire la finestrella che vi ho fatto vedere prima. Ma non c'è nient'altro. Diciamo che a livello di areazione questa tenda ha semplicemente una parte superiore, apribile, e poi la parte della porta davanti. Concludo la recensione parlandovi di quanto riguarda il vento, visto che ve lo accennavo. Questa tenda è garantita la saliva fino a 90 km orari, noi l'abbiamo usata più o meno attorno ai 60-65 km orari col vento, ha retto benissimo. Davvero, a livello sia di palleria sia di vento che entra all'interno, è una tenda quasi perfetta. Quindi veramente un'ottima tenda, soprattutto per chi vuole usarla in climi ventosi. Adesso invece vi faccio vedere la sua confezione dove viene riposta. Per quanto riguarda la sacca, come vedete è abbastanza piccola. La sacca in sé è comunque abbastanza grossa, quindi quando andremo a riporla non faremo fatica. A poi due cinghie andare a tirare per ridurne ancora di più le dimensioni. Sicuramente è una sacca che mi è piaciuta. Facile da riporre, un po' idrorepellente, in modo che se mettiamo via la tenda un po' bagnata, l'acqua non si disperda per lo zaino, dimensioni uguali a tante altre tende, anzi forse rispetto a delle tende autoportanti è anche un pochino più piccolina. Quindi anche per quanto riguarda la sacca, questa tenda è promossa. Arriviamo dunque alle conclusioni per questa saleva Light Track 2. Ve la consiglio? Sì, io mi ci sono trovato veramente molto bene. È un'ottima tenda da utilizzare per media, alta montagna, anche perché essendo autoportante potrei strutturarla anche sulla roccia senza tanti problemi. Mi sono piaciuti tanto i materiali, la costruzione forse un po' piccolina rispetto ad altre tende, però alla fine se dobbiamo usarla proprio come tenda da la piantiamo alla sera, ci dormiamo e la mattina ce ne andiamo, è perfetta, è veramente super buona. Comunque 2,1 kg per quanto riguarda la struttura spogliata, diciamo delle cose superfule e se pensiamo di dividerla tra due persone comunque verrebbe fuori un chilo a testa, quindi non è così tanto. Davvero mi ci sono trovato veramente bene, viene venduta a un prezzo di 220-230 euro. Io penso che come tenda d'alta quota, soprattutto d'alta quota, è quasi perfetta. Davvero un ottimo rapporto qualità-prezzo. Detto ciò ragazzi, una speranza sia stato esauramente esotivo anche per questa recensione, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!